Un semplice spray al peperoncino da 15 euro avrebbe potuto salvare la vita di Alic e un giorno potrebbe salvare la tua. Quindi se hai più di 16 anni, comprane uno immediatamente o compralo ai tuoi figli e tienilo sempre in tasca o direttamente in mano se ad esempio stai camminando in una strada isolata, magari di sera, eccetera. Questo perché non solo Alic avrebbe potuto usarlo per difendere se stesso, ma anche un qualunque passante, giustamente titubante nell'intervenire a mani nude per paura di essere a sua volta aggredito, avrebbe potuto usarlo contro l'aggressore e salvare una vita correndo pochissimi rischi per la sua persona. Ovviamente si tratta di scelte personali, ma io non avrei esitato un attimo a usarlo e se Ferlazzo, l'aggressore, mi avesse successivamente denunciato, non credo che alcun giudice avrebbe avuto nulla da ridire sul mio comportamento, sebbene la vita in pericolo non fosse direttamente la mia. Lo spray al peperoncino è efficacissimo, non provoca danni permanenti, è legale se avete più di 16 anni e potrebbe davvero salvarvi la vita o comunque darvi l'opportunità di salvarla a qualcun altro con pochissimi rischi per voi stessi, rischi non nulli, ma secondo me molto bassi. Trovate molti video in rete in cui lo spray al peperoncino si dimostra efficace come strumento di difesa personale e in particolar modo mi ha colpito uno in cui viene usato contro un cane di grossa taglia e molto aggressivo che aveva attaccato una bambina e con nessuno riusciva a fargli mollare la presa fino a quando non è stato usato lo spray al peperoncino che ha fatto scappare il cane in un istante. Ovviamente si tratta di uno strumento di difesa personale, non di offesa, che deve essere usato solo ed esclusivamente in situazioni di emergenza, di grave pericolo, cioè quando appunto riteniamo che la nostra vita o quella di qualcun altro sia in pericolo. Questo video non è sponsorizzato, quindi fatelo girare perché davvero potreste salvare la vita di qualcuno. Se non volete darmi visibilità fate un vostro video, ma vi prego fatelo, diffondete questo messaggio perché è davvero importante. Gli spray al peperoncino ormai si trovano, che ne so, in qualsiasi ferramenta, spesso nelle tabaccherie, costano poco, sono molto efficaci e davvero potrebbero un giorno salvare la vita a voi o ai vostri figli.